Le immagini della visita a sorpresa di Papa Francesco alla Camera Ardente di Giorgio Napolitano allestita in Senato. Il pontefice, appena tornato dal viaggio a Marsiglia, è arrivato a Palazzo Madama, ha fatto il suo ingresso in Sala Nassiria per rendere omaggio al feretro in carrozzina. Poi, alzandosi in piedi, si è a lungo soffermato a parlare con Clio Napolitano, la moglie del Presidente Emerito della Repubblica. Dopo un momento di preghiera, uscendo, ha scritto una dedica napolitano su un foglio di carta intestata del Senato. Un ricordo e un gesto di gratitudine ad un grande uomo servitore della patria, firmato Francesco.